Ciao a tutti, facciamo la prova dell'impianto elettrico con il motore acceso. Prova luci, posizione, si accende anche la spia e i quanta chilometri e il claxon funziona. Spento, il claxon funziona. Acceso, è acceso sia la spia che i quanta chilometri, cambiamo il tipo di luce, funziona, il claxon funziona. Poi proviamo le frecce, sinistra, funziona. Il claxon funziona, la spianza destra funziona. Adesso proviamo le luci dello stop, funziona. Accendo la luce, tutto funziona. Assendo l'altra luce, tutto funziona. Con le frecce accese, tutto funziona. Con l'altro spianza acceso, tutto funziona insieme al classo. Prendiamo la spiandata, partiamo con un pittà. adesso qua abbiamo il chiavino accende su alfa e funziona adesso accendiamo proviamo ad accendere il motore funziona sempre tutto quindi direi che quei momenti sono apposi vi ringrazio per gli iscritti sono aumentati, siamo a 428 vi ringrazio tantissimo spero che i filmati siano interessanti e ciao a tutti e ai prossimi filmati adesso spengo